SCARLET NEXUS Per fortuna abbiamo già le chiavi Andiamo alla divisione sperimentale La prima volta a venire qua è stato terribile È stato veramente un incubo venire qua Perfetto, siamo già arrivati Eh, immagino che puzza ci sia Ok Ah, mi sta dicendo che nelle fiale ci sono i cervelli Questo mi sta dicendo Grazie a Haruka Dell'avvertimento Yuit è venuto a distruggere questo centro di ricerca Molto probabilmente O comunque a scoprire dove si trovava Hmm Forse dovresti iniziare a parlare con Yuito Voi che idee avete? Oh, e almeno questa l'abbiamo capita, dai Dici Haruka Ah, guarda L'hanno pensata proprio bene Eh, esatto L'hanno pensata proprio a tutto Karen può fare veramente di tutto Ed è l'ultima persona di cui fidarsi Shiden Eh, esatto Esatto Cioè, ormai loro sono con noi per esserci Ma a noi non ce ne frega un cazzo Delle missioni che ci vengono date Siamo qua solo per Naomi Tutto il resto conta relativamente niente Ne sei sicura? Kazane si è appena girata verso la porta Sono arrivati E dove ci nasconderemo di grazia? E con la mia super velocità Possiamo scappare più velocemente Roger Ecco Ah, Luca, mi sembra un po' più spenta In questa missione Mi sembra un po' Meno attiva Vai, accoltellalo con l'invisibilità Ah no, non c'è Kagero Quindi non parleranno Eccoli Che bello che Yuto è ancora indietro con la storia Sì, sono quelle Ah, ebbè Mi aspettavo che parlasse lei Ma non che fosse spaventata Tugumi Sì, è una cosa che mi ha portato E' una cosa che mi ha portato E' una cosa che mi ha portato E' una cosa che mi ha portato Una? Ce ne sono un bel po' lì Guarda com'è fiero lui con L'equipaggiamento che gli abbiamo dato Aspetta un attimo Mi stai dicendo che gli equipaggiamenti che abbiamo dato degli altri compagni E' colpa mia se mi fanno più danno? Ogni volta che vediamo Yuto Finiamo solo in questa situazione Quindi voglio dire Sì, ma loro sono in di più, eh Non vorrei dirlo Magari qualcun altro riprenderebbe la ricerca Qualcosa per farli stare bene Più che altro la cosa che fa ribrezzo E' che c'è qualcuno che va in giro A zacchettare le teste Probabilmente di cadaveri Sicuramente una soluzione Effettivamente una colpa di aver ucciso suo padre Non te l'ha ancora data del tutto, eh E chi se ne frega E potremmo parlare durante il combattimento? Siete in tre contro cinque Se non addirittura sei Siete in tre controlli Che situazione di merda Fatelo dire Siete in tre controlli Siete in tre controlli Siete in tre controlli Siete in tre controlli Ciao Yuto Madonna mia Guarda Gemma com'è Cazzutissimo lui, eh Siete in tre controlli Siete in tre controlli No, non può essere vero No, non può essere vero Siete in tre controlli Sì che sarebbe la soluzione Però Oh, aspetta Ok, voglio Occuparmi di lei prima Allora, calmi tutti Non riesco a muovermi, sono incastrato da qualche cavolo di parte Eccati Questo Levati da lì Ma porca di quella miseria Sta struttura fa schifo per combattere Ok, bagnata Perfetto Anche paralizzata Benissimo, si è trasformata anche lei Madonna mia, ma Non si capisce Sta struttura fa schifo per combattere È stretta, dannazione a voi Vai, DL2 Così La bagniamo E A Nabi Ce la siamo levata dalle balle Ora Occupiamoci di Gemma Vai via da me Perché sei qui solo me, Gemma Madonna mia Che peso Sta struttura fa schifo per combattere È stretta, dannazione Questo ha fatto male Questo ha fatto male Andiamo d'aiuto allora Ah, bene Finché 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 hanno qualcosa attivo Madonna mia Che palle Gemma Beccati questo Stai buono Perfetto Bravo Shiden Che così L'abbiamo paralizzato E addio Gemma Beccati questo Yuito intanto Uno Due Tre Perfetto Andiamo di iper velocità Ah, no Cosa ho schiacciato Stai buono Mi pensavo di aver schiacciato La mappa Ancora Ma perché solo lui si trasforma E io no Sta struttura fa schifo C'ha tutti sti tavoli In mezzo alle palle Dio mio Che peso Ecco Fatto Yuito Porca di quella miseria Stai buono Beccati questo Meno male che Yuito Non ha L'accesso All'iper velocità Perché se no Era la fine Oh E finalmente Abbiamo attivato anche noi Il nostro iperpotere Beccato Beccato Su Su Eh, non è il momento Dai Dai Yuito Forza 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 Ahia che male Guarda Meno male che abbiamo Quel plugin Che ci permette Di rimanere Sempre a uno di vita Perché sto gioco Con quei danni Eh, vabbè Combattiamo Poietà Allora Aiuto Ancora Oh ma Guardalo I loro attacchi Sono inarrestabili I miei Non li caga nessuno I miei colpi Non Colpiscono Un cavolo Di nessuno Di qua Tira su Arashi Madonna mia Quanto si vuole No, no Ma ancora un po' di più Eh, mi raccomando Vai Arashi Pensaci tu Ah, bravo Shiden Perfetto Ecco fatto Perfetto Occhio Ah, la stavo per schivare Ancora Ma perché lui può Spammarli i colpi E io Devo pregare le divinità Per riuscire a colpire qualcosa Naomi è stata trasformata Non me ne frega un cazzo Vaffa culo Molto probabilmente Guarda caso E vai Parliamo con Yuito Finalmente Ok Che sono le fialette Che abbiamo trovato E fino a qua Ci siamo Beh, Yuito Facci l'abitudine Guarda caso Ma più che altro Voglio capire se quelle teste Prendono a cadaveri O a persone ancora vive Perché Se sono morti È brutto Però È già più accettabile Non lo so A chi dirà Luca Non ho capito questa scena Ma è molto probabilmente Ma è molto probabilmente Che si saprà Dalla sua parte Di storia Che si saprà ... Allora, è molto probabile che c'entri qualcosa con il viaggio nel tempo o comunque con la manifestazione dei poteri di Yuito questa cosa. Perché io invece penso che non stia benissimo Naomi? Noi torniamo al rifugio. Vediamo? Ah, ok, perfetto. Pensavo avrebbero detto ci vediamo dopo. Io mi rendo conto che questo oggetto sia molto rotto. Me ne rendo conto tantissimo. E che se non fosse stato per questo oggetto molti scontri li avremmo persi nelle boss fight. Questo è coiuito soprattutto. Però, porca di quella miseria, c'è un divario terribile fra i danni che facciamo noi e quelli che subiscono loro. Da un certo punto di vista è totalmente ingiusto. Poi non capisco sta sala gigante. Boh, vabbè. Mi sa che Naomi non sta benissimo, eh. Ciao comunque. Perché ho il presentimento che combatteremo? Chi te l'ha detto? L'hai sentito dalla trasmissione? Ah, ok. Giulio, questa cosa qua mi urta la vista, però, eh. Non me ne frega niente! Questa musica di sottofondo l'ho già sentita da qualche parte. È molto simile a un altro gioco. E adesso ci attacca. E se tu mi vuoi bene... F... faresti fermare tutto questo? Uccidimi! Indisciplinati Sì, sono arrivati a la scuola? Siamo parlando di questa scuola. Siamo arrivati alla scuola. Siamo arrivati alla scuola. Siamo arrivati. Sì. 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 Ma... Benvenuto nel mondo, Karen! Sì. Ascolti. Guardatevi un po' di te. Sì. Ma hai... Ma hai... Sì. Ma hai... Ma hai... Ma hai... Ma hai... Ma hai... Ovviamente Oh, qualcuno dovrà forzare pure la mano, eh Pucciarli come armi? Vai, spiegami le vere motivazioni, Karen Ok Mentre Seiran la vuole usare per evolvere l'umanità Esatto Madonna mia Non Per cui la sua proposta è il nostro prezzo? Non c'è nessun modo che il prezzo di prezzo di prezzo. Per chi è anche il prezzo di prezzo di prezzo di prezzo? Seiran ha fatto un prezzo di prezzo di prezzo di prezzo di prezzo. C'è anche il prezzo di prezzo di prezzo di prezzo di prezzo. Se non si tratta di prezzo di prezzo di prezzo, perchè cosa si tratta? Come si, credo? Perdereste i poteri Perché tu lo sai Non fare il finto tonto con me Sono sicuro Che l'ultimo final boss di questo gioco Sarà proprio Karen Non ci metto neanche il dubbio C'è molta similitudine Fra Karen I casane Potrebbe essere suo padre E ora scompare 3, 2, 1 Se ne va Guarda ormai Fase di riposo E vai Allora c'è da dire un paio di cose Come ho già detto I danni che ricevi durante questi combattimenti Sono ingiusti Ah ciao Benvenuta Beh meglio così allora Che carina che è lei comunque Tutti che rido Tutti felici Io sono triste Devo salvare mia sorella È l'unica cosa che mi importa No però Vai a riposare Vai a riposare Secondo me te l'ho già detto Puoi riportare indietro la materia Puoi Non solo creare i portali E invece E invece Sì Ricerche Sì Sì Non lo so Dimmelo tu Ok Ok E questo cosa vuol dire Beh se arriva da lì È grazie al cazzo Kyoka Scusami E tu ne sei sicuro Kagero? In un qualche modo che pensano sia religioso Pensi Kyoka Anche perché tanto Mi state raccontando tutto voi Io ci sto capendo Metà della questione Non è che tu stai nascondendo qualcosa Kagero Andiamo Non è tanto Destinazione Togetsu Che novità Che novità Guarda Tanto io sono sicuro Che sta a Naomi Ci crepa Brava ragazza Tu sei intelligente Bene Fase d'attesa E poi Verso Togetsu Fase di attesa Sette Dovrei parlare con Shiden Eh addirittura Shiden Eh vorrei saperlo anch'io questo Forse sei sbagliato Casualmente Ah ma c'è anche lei Guarda Aspetta È la prima volta che finalmente la vediamo qui con noi Ciao Ok Una che si chiama Alice Alice Ah quindi tu lo sai Arashi Vabbè Ok Arashi Va bene così Quando te la senti Quindi signori Vi ringrazio a tutti per avermi seguito Come al solito mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti